Raffaella, allora Africa Chiama è settimana regionale africana nel pieno del vivo, due giornate impegnative anche per le prossime. Sì, giovedì 4 ottobre avremo alle ore 21 lo spettacolo gratuito presso la Sala Verdi, il Paese degli Uomini Integri, uno spettacolo prodotto dall'ONG Tamat, un'ONG Umbra, con le musiche di Sebastiani e la voce di Sandro Cappelletto. Giornalista della Stampa e Voce di Radio 3. A seguire, dopo lo spettacolo, ci sarà un open talk, quindi un dialogo aperto con il pubblico insieme a tutti i protagonisti dello spettacolo. È uno spettacolo che vuole rendere omaggio al Burkina Faso e a Thomas Sankara. Venerdì 5 ottobre invece avremo un doppio appuntamento, alle 17 ci sarà la cantautrice e cantante Frida Neri, che condurrà un laboratorio per bambini alla Mediateca Montanari, proprio sulle musiche del mondo, mentre alle 18, presso la Sala della Carifano, saremo presenti con un incontro sul dialogo interreligioso. Interverrà Francesco Comina, che proprio ci introdurrà a quello che è l'importanza del dialogo interreligioso nella costruzione di un mondo di pace. Sabato 6 ottobre è la giornata conclusiva, la giornata veramente importante, dove speriamo veramente di avere la partecipazione di tanta cittadinanza. Ci vedremo alle ore 16, presso la tensostruttura di Viale di Reatico in Sassonia, per un momento di riflessione. Da lì partiremo con una marcia per la pace fino ai giardini di Piazza Miani. E qui alle 17 consegneremo il premio L'Africa nel Cuore a Ivan Sagnet, un camerunense che ha guidato la prima, diciamo così, protesta sindacale, a nome appunto di tutti i braccianti che vengono sfruttati nelle campagne della Puglia. A seguire poi ci saranno concerti, avremo come ospiti due cori, il coro di Libera Musica e il coro Neverland. Sono tutti bambini appunto che si esibiranno per l'Africa. Ci saranno degli spettacoli di strada, Filippo Brunetti e Calù, e poi due grandi concerti con Marumba e Lion D. Ovviamente tutto nella cornice dei giardini di Piazza Miani, insieme appunto anche allo street food e a tanti mercatini.